Il professor Claudio Modini, direttore del DAI Emergenza e Accettazione dell'Umberto I, ci presenta l'attivazione di due funzioni innovative del pronto soccorso. Due percorsi, uno che riguarda i codici gialli, gestiti immediatamente qui da un medico, e uno i codici cosiddetti minori che invece da questa sede vengono portati rapidamente in un'altra sede dalla quale possono accedere con facilità a tutti i presidi di diagnosi e di cura della piazza centrale. Gli ausiliari o gli infermieri accompagnano con gli ascensori sopra i pazienti che sono stati definiti come codici minori, codici bianchi, codici verdi, cioè malati che si prevede e non abbiano necessità di ricovero. Noi prevediamo di trattare in questa sede 20.000 malati l'anno, che quindi è un numero molto grande, superiore a quello di alcuni ospedali per la totalità dei malati che arrivano al pronto soccorso. Una serie di box visita dove ci stanno il chirurgo, il medico, quello strutturato, e un medico di medicina generale che vede i codici proprio bianchi. Il dottor Arcedi che coordina l'attività dei medici di medicina generale, che è una cosa sperimentale attivata dalla regione, va avanti da un po' di mesi, ci sono dei medici non necessariamente specialisti che vedono però soltanto i codici bianchi. Noi vogliamo dividere completamente i percorsi, gravi da una parte e minori dall'altra, in maniera tale da migliorare la performance, anche perché dovremo sempre fare i conti con le risorse che non sono certamente ottimali. Quindi sappiamo che c'è una crisi nel paese, quindi dobbiamo utilizzare al meglio gli spazi e il personale. Noi contiamo moltissimo su questa struttura, qui gli spazi sono più che dignitosi, molto grandi, molto ampi, molto comodi. Direi che anche la gestione di alcune situazioni più delicate, noi stiamo pensando di poter gestire le donne vittime di aggressione oppure dei pazienti che hanno dei problemi di tipo psichiatrico. Qui abbiamo gli spazi per poterli governare meglio, senza creare un grandissimo impegno nelle strutture sotto, dove vedono fondamentalmente i pazienti molto gravi, gli infarti, i politraumi, gli emorragici. Quindi bisogna separare nettamente questi due percorsi. Questo è quello che ci proponiamo di fare.